Nuova edizione flash del telegiornale di Casale Monferrato, in primo piano c'è la cronaca. Due persone, un ventenne di origini marocchine e un 45enne di Morano, entrambi con precedenti di polizia, sono state denunciate dai carabinieri di Balsola per porto ingiustificato d'armi. I due, in piazza Papa Giovanni Paolo, hanno minacciato alcuni giovani presenti con una balestra. Il sistema di videosorveglianza municipale ha permesso di identificare due uomini. L'arma è stata rinvenuta e sequestrata a casa del ventenne a seguito della perquisizione. Un 83enne è finito nei guai perché dopo un controllo nella sua abitazione ha risultato non essere più in possesso di una carabina senza fornire valide giustificazioni. I carabinieri di Balsola hanno così denunciato in stato di libertà l'anziano per omessa custodia d'armi. Tutte le altre armi legittimamente detenute sono state sottoposte a sequestro cautelativo. E' attesa per venerdì la decisione del GUP del Tribunale di Vercelli, Fabrizio Felice, sulla richiesta di rinvio a giudizio del magnate svizzero Stefan Schmidaini, ultimo proprietario della Eternit Italia. Schmidaini è sotto inchiesta per la morte di 392 persone, 62 lavoratori della fabbrica del Ronzone, 330 cittadini di Casale e dintorni, tutte uccise dal mesotelioma. Una strage che continua ancora oggi ad oltre 30 anni di distanza dalla chiusura della fabbrica. Importante incarico per il sindaco di Casale Federico Riboldi che a partire da gennaio assumerà anche la delega ai lavori pubblici della provincia di Alessandria rinunciando all'incarico di vicepresidente. Mi occuperò di strade, ponti, viadotti, commenta Riboldi, miglioramento dei collegamenti e della delicata questione banda larga. Sono cominciati i lavori per la rimozione dell'isola sul fiume Po di fronte all'imbarcadero di viale lungo Pogramscia Casale. Affidati a metà dicembre alla ditta Lara S.P.A. di Casale dovrebbero concludersi nel giro di due-tre mesi. E' fitto il programma di eventi previsto a Casale per il giorno della memoria. Il primo appuntamento sarà giovedì 23 gennaio alle 21 e un quarto nella sala Carmi della comunità ebraica con la conferenza Oltre le Alpi, collaborazionismo e antisemitismo nella Francia di Vichy 1940-1944, tenuta da Marco Sigaudo, professore IRC nelle scuole medie, laureato in scienze politiche e in teologia. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Ampi di Casale. Le attività proseguiranno domenica 26 gennaio sempre in sala Carmi alle 15 e 30 con la proiezione del documentario Scesopoli, storia dei bambini ebrei salvati a Selvino di Enrico Grisanti. Un altro toccante momento sarà alle 17, l'entrata della sinagoga dove è collocata la targa a ricordo di tutti i cittadini di Casale e Moncalvo deportati nei campi di sterminio. 63 nomi che verranno letti pubblicamente prima della preghiera per i defunti e l'accensione pubblica di 6 lumi più 1, a ricordo dei 6 milioni di ebrei e di un milione di civili vittime del nazifascismo. L'ultimo appuntamento previsto a Casale sarà domenica 2 febbraio alle 15 e 30 in sala Carmi con la conferenza del professor Claudio Vercelli, antisemitismi nell'oggi, nuovi orizzonti e vecchi fantasmi. In occasione della giornata della memoria, lunedì 27 gennaio data scelta per ricordare simbolicamente le milioni di vittime dei campi di sterminio, una parte dei giardini della stazione di Casale sarà intitolata Raffaele Iaffe, preside degli istituti Lanza e Leardi e fondatore del Casale Football Club, deportato e scomparso il 6 agosto 1944 ad Auschwitz. Alle 10 e 30 in via Alessandria verrà deposta una corona d'alloro in omaggio alle vittime della Shoah alla targa Monumento in prossimità del Cardine su cui poggiava il cancello del ghetto. Alle 11 e 30 ci si trasferirà poi ai giardini della stazione per la cerimonia di intitolazione di parte dei giardini a Raffaele Iaffe. Prenderà il via giovedì 23 gennaio alle 9 la settima edizione della Festa della Scienza all'Istituto Balbo Liceo Scientifico Palli. Durerà fino a domenica 26 gennaio e l'evento clou sarà la conferenza del professor Attilio Ferrari dal titolo Tutti i colori dell'universo in programma sabato 25 gennaio alle 9 e 30. Durante i quattro giorni della Festa della Scienza gli studenti del Liceo Scientifico inviteranno i visitatori ad indagare i misteri dell'universo in un affascinante percorso alla riscoperta del cielo notturno. Questi gli orari di accesso al pubblico, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17 e 30, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17 e 30. Sarà inaugurata sabato 1 febbraio alle 17 nelle sale del secondo piano del castello del Monferrato di Casale la mostra 50 anni di colore di Gigi Marini, una settantina di opere esposte pronte a ripercorrere l'evoluzione dell'artista casalese che già a 16 anni aveva capito, mentre collaborava con i suoi fratelli disegnando cataloghi, depliant e loghi per aziende, che la grafica sarebbe stata una parte indissolubile della sua vita. Marini fonda con alcuni amici il gruppo La Sfera, esponendo in gallerie in Piemonte e Lombardia. Una volta sciolto il gruppo riprende la sua attività in solitaria in gallerie e spazi comunali piemontesi. La mostra resterà aperta fino al 23 febbraio, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Prendrà il via venerdì 31 gennaio il grande romanzo del cinema dal secondo dopoguerra oggi, il corso organizzato dalla biblioteca civica e dall'assessorato alla cultura del comune di Casale, tenuto da Simone Spoladori, insegnante, critico cinematografico, autore per cinema, radio, televisione e teatro. Cinque conferenze fino al 13 marzo per raccontare il cinema italiano dal neuralismo e dalle prime prove di quella che poi diventerà universalmente famosa come la commedia all'italiana, fino all'età dell'oro degli anni 60, dai tumultuosi anni 70 fino alla crisi degli anni 80 e ai giorni nostri. Venerdì 31 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 nella sala multimediale della biblioteca si parlerà di anni 40 e 50, pane, amore e riso amaro, il neorealismo e la commedia all'italiana. Per informazioni potete contattare i numeri 0142 444 246 oppure 0142 444 298 o scrivere a bibliotechiocciolacomune.casale-monferrato.al.it Grazie a tutti. Grazie a tutti.